di Omnibus, allora vado subito a presentare gli ospiti di questa prima parte, qui siamo a me e due colleghi giornalisti, Giulia Merlo, il domani, buongiorno. Buongiorno e bentornato Gian Piero Gramaglia. Grazie, buongiorno. Vedo collegata la direttrice del Quadriano Nazionale, Agnese Pini, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno al professor Massimiliano Pararari, masmediologo, esperto di comunicazione, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori e agli ascoltatrici. Allora, sono tanti, veramente tanti gli argomenti di cui discuteremo stamattina nel nostro dibattito. Prima una doverosa apertura e andiamo all'assegnazione 4, perché sono riprese le ricerche a Porticciolo, insomma siamo vicino, siamo in Sicilia nel Palermitano, dove i Vigili del Fuoco stanno cercando gli ultimi due corpi che sono dati per dispersi della tragedia del Balesian. Ieri sono stati recuperati 4 corpi, si sta ancora indagando, c'è l'indagine da parte della Procura di Termini Imerese per capire quelle che sono state le ragioni della sciagura che ha portato appunto al naufragio del Balesian. Vedremo se ci saranno nell'arco della giornata degli aggiornamenti sul tema. Dicevo, tanti gli argomenti di questa mattina, le dichiarazioni che arrivano dal tradizionale meeting di Rimini, ieri hanno parlato il Ministro Penante Dosi, ha parlato la Ministra Calderone, ha parlato Matteo Salvini, il tema della cittadinanza è molto molto forte, c'è questa forte asimmetria all'interno del centrodestra tra chi vorrebbe mettere mano alla legge sulla cittadinanza e chi invece, come Matteo Salvini, dice no, la legge va bene così com'è. Ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia, Panetta, lanciando l'allarme sui conti pubblici e tornando anche lui sul tema della cittadinanza e vedremo in che modo, poi la convention degli Stati Uniti, l'autonomia, insomma tanti argomenti. Però stamattina ripartiamo, insomma, ieri l'abbiamo un po' accennato come argomento, come tema, da quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle e quello che sta succedendo all'interno di un movimento che oramai vive di questo scontro a distanza, potremmo definirlo così, tra Beppe Grillo, il custode dei valori, come lui si è firmato nella lettera di Giaccusa, a Giuseppe Conte che invece sta preparando una vera e propria rivoluzione. Abbiamo rubato dall'area che tira questa clip che ci ricorda, insomma, com'è il rapporto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Guardiamo. Volevo venire qua per metterci poi nello scappamento Conte perché c'ha quelli adenoidi lì che dovremmo stapparlo un po'. L'unico difetto che ha. Pochi giorni dopo Beppe Grillo mi chiese di diventare leader politico del Movimento 5 Stelle. Infatti è un movimento che permette a un professore di università di venire lì e diventare il presidente del Consiglio. Dammi questa possibilità di essere il visionario, di essere il custode dei valori. Aspetta a lui decidere se essere il genitore generoso o il genitore padrone. Io non sono il padre padrone del Movimento, io sono il papà del Movimento. Abbiamo avuto un lunghissimo scambio anche ieri come nei giorni precedenti. Andiamo d'accordo con Conte. Raccogliete progetti, mandateli a Conte. Conte prima o poi li capirà. Sono battute. È forse la mia disgrazia, i miei effetti collaterali. Fortuna, ho il senso dell'ironia. Finché sei presente non parlerò male di me. Va bene. Allora, abbiamo cercato di alleggerire anche i toni di questa discussione, che è una discussione molto molto forte. Tanto che oggi Simone Canettieri, giornalista del Foglio e conoscitore del mondo 5 Stelle dalla sua nascita, dà in prima pagina questa possibilità. Sono pronto alla scissione. Meglio non nominarglielo, gli sta sul gozzo. Ce l'ha a morte con Giuseppe Conte, non gli risponde mai al telefono e soprattutto gli vuole scippare il Movimento 5 Stelle. Non stima i neoparlamentari, che in privato chiama i mini poni, in quanto sono portati a spasso dall'ex premier. Il giorno dopo il posto sul blog a cui Grillo ha risposto picche, la strategia del fondatore si muove su livelli diversi. Si attacca al telefono con quelli della vecchia guardia, Raggi, Appendino, Figo, Toninelli e parlamentari coperti. Parla soprattutto con i suoi legali. Tanto che alcuni giornali, come ad esempio Il Tempo, parlano di un possibile piano, come lo chiama Il Tempo, Il Quotidiano di Roma, un piano dibba. La strategia di Grillo per il Vaffa Conte, riunione segreta a Roma con i suoi fedelissimi. E in caso di scissione il leader è dibattista. Nella squadra elevata ha anche la possibilità della presenza dell'ex sindaco Virginia Raggi. Allora, Agnese Pini, direttrice, parto da lei. A cosa stiamo assistendo? A una evoluzione naturale del movimento? O, diciamo, tra noi addetti ai lavori, quelli del Movimento 5 Stelle, hanno cercato in tutti i modi, diciamo, di parlare di una normale dialettica. In realtà c'è qualcosa di più importante. La vedi l'eventualità, diciamo, di un'ipotesi di scissione? O forse la parentesi politica di Beppe Grillo è oramai al tramonto? C'è stato un salto di qualità della modalità con Beppe Grillo. Lo avete mostrato nel servizio molto ben fatto di poco fa. Beppe Grillo negli anni non è mai stato particolarmente tenero con Conte. Ma l'ha sempre fatto in modo duro, ma attraverso lo schermo della battuta, della faccia della clown, dell'ironia, dell'attacco che può fare male, ma che poi si trincera dietro, è stata solo una battuta. In questo caso, invece, siamo di fronte a un salto di qualità politico. Beppe Grillo scrive un comunicato molto asciutto, molto duro, molto preciso, parlando di cose estremamente concrete, a cominciare dal simbolo. Allora, quindi, di sicuro, nella migliore delle ipotesi, rischia di diventare una guerra di carte bollate. Tra l'altro qualcosa di antitetico allo spirito originale del Movimento. Ed è una cosa estremamente complicata, perché c'è già, diciamo, una sentenza al Tribunale di Genova che riguarda il simbolo. Il simbolo poi nel tempo è stato, diciamo, c'è stata una sorta di evoluzione. È stato messo il nome, è stato messo il 2050 e così. Si va, si potrebbe andare verso una vera e propria guerra, diciamo, di carte bollate, laddove Conte ha messo in discussione anche il nome stesso, insomma, che forse è la vera novità di questa trasformazione. È la vera novità legata appunto al fatto che quelli che sembravano dei problemi da burocrati della politica, la guerra per carte bollate, il simbolo è una cosa da burocrati. Qui abbiamo un salto ideologico, cioè Beppe Grillo per la prima volta, in maniera appunto, nei quei vocabili rivendica, quelle cose sono mie. Le ho create io, ho io la paternità su quello. Così come le ho create, le posso distruggere, insomma. Sono il titolare morale, politico e anche burocratico, ce lo decido io. Conte ovviamente, per il percorso politico che ormai hai fatto, tra l'altro era interessante quello spezzone in cui Grillo nel vostro servizio ricordava. Questo è un movimento che può far sì nel miracolo della politica, per cui un professore universitario diventa Presidente del Consiglio, vero? Noi sono passate ere geologiche e quindi Conte ha un curriculum politico che può consentire di rivendicare un'indipendenza rispetto a papà Grillo. Quindi questa è una spaccatura non più appunto una guerra tra burocrati, può finire così, può finire a carte bollate, ma c'è una spaccatura politica ormai inequivocabile e probabilmente incolmabile, anche perché questa distanza si è allargata dentro due anime che nel movimento ci sono, convivono ormai, ed è evidente a tutti, in maniera impossibile, quindi tutto il fronte Toninelli, Raggi e Di Battista, che è già un transfugo ma pronto a riprendere lo scetro di un movimento delle origini, perché poi qui il grande tema politico è chi ha tradito il messaggio originario, chi ha tradito il fondamento, lo scrive Grillo nel suo testo, nel suo comunicato, chi ha tradito il patto che ha fatto nascere da un'intuizione politica di mia e di cataleggio questo movimento, siamo noi che non sappiamo cogliere le distanze e differenze, le visioni della politica o è Conte che si arroga qualcosa che in realtà non gli appartiene. Quindi per tutti questi aspetti, per la prima volta, quello che fino a, appunto, le diatribe nel movimento ci sono già state, ma sono state così tenute sotto controllo attraverso la burocrazia della politica, che è una cosa molto noiosa, ma che a volte funziona, soprattutto in partiti così poco strutturati come il Movimento 5 Stelle, per ragione da un lato storico e dall'altro un po' ideologico. Però è anche vero, e vado dal professor Panarali, che ieri si è dedicato al Movimento 5 Stelle sulla stampa, è anche vero che la trasformazione di un movimento in partito, partito di Giuseppe Conte, come si chiamerà, non lo sappiamo, era anche una cosa, diciamo, abbastanza naturale, laddove Giuseppe Conte è un leader a cui riconosciuta, diciamo, come consenso, adesso un consenso molto alto nel Paese, ha due, insomma, ha alle spalle delle esperienze di governo importanti, e tornando anche alle parole di Gnese Pini, ricordando anche la nascita di Giuseppe Conte, Conte è uno che viene da fuori del Movimento 5 Stelle stesso, lo ricorda lo stesso Beppe Grillo, cioè il nome di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nasce da quello stallo dell'inizio del governo giallo-verde, in cui da una parte Luigi Di Maio e dall'altra parte Matteo Salvini non volevano che l'altro facesse il premier, da lì, insomma, e poi Giuseppe Conte nel corso del tempo ovviamente ha sviluppato una sua esperienza. Qual è la sua opinione? Nella fattispecie è proprio terzium datur, nel senso che i veti reciproci hanno portato all'individuazione di una terza figura. Dovremmo in realtà correggere Beppe Grillo perché nella storia italiana Giuseppe Conte non è stato il primo professore universitario ad arrivare a Palazzo Chigi e la storia della politica italiana è una storia in cui l'Accademia ha giocato un ruolo indipendentemente naturalmente dal Movimento 5 Stelle. Ma al di là di questo, quello a cui assistiamo è uno scontro tra personalità naturalmente, è uno scontro tra visioni, nel senso che Beppe Grillo rivendica non soltanto la paternità del giocattolo, chiaramente, che è il suo, l'ha fondato effettivamente insieme a Gianroberto Casaleggio, ma una idea della politica che è fondata sulla, in realtà, l'ideologia dell'antipolitica, alla quale Conte per un periodo si è sostanzialmente accodato. Poi sappiamo che Conte ha caratteristiche di grande adattabilità al scenario politico, al contesto politico, anche di camaleontismo e di trasformismo potremmo dire, ma da un po' di tempo a questa parte ha deciso di dare una svolta, di cambiare quello che è il software politico ideologico del Movimento e di radicarlo, seppure sempre all'insegna del passo del gambero e con tanti stop and go, all'interno del centro-sinistra, o per meglio dire del sinistra-centro. Ma l'altro nodo ha a che fare con la formula organizzativa, che è estremamente importante, perché la forma è sostanza e naturalmente per i partiti e i movimenti anche la modalità organizzativa è decisiva. E allora, noi stiamo parlando di quello che è stato il movimento antipolitico più significativo all'interno della storia politica degli ultimi anni, che ha una caratterizzazione, davvero tanti ne hanno discusso, ha rappresentato un caso europeo unico molto post-moderna nella sua capacità metamorfica di trasformarsi, ma che ha deciso deliberatamente di non compiere fino in fondo il processo di istituzionalizzazione, né quello di partitizzazione, ovvero non si è mai trasformato in un partito politico a tutti gli effetti. Perché? Innanzitutto per la presenza di Beppe Grillo. Beppe Grillo continua a predicare, a sostenere, a pensare ad un'idea di partito-movimento, che quindi è in grado di ritornare immediatamente sulle barricate, che oltre la destra e la sinistra, come dice lui... Dove il principio dei due mandati è fondamentale, cioè lui non vuole la figura del politico di professione, ma persone prestate alla politica, che in qualche modo poi possano cambiare nel corso di 4-5 anni. Proprio perché è un'idea molto fluida, molto liquida. Esattamente. Non è un partito, ma è un personale politico sostanzialmente revocabile. Naturalmente questo ha a che fare con un principio cardine dell'antipolitica, diciamo così, che è l'idea che non ci devono essere per l'appunto politici di professione, ma anche ha a che fare molto con un'idea, diciamo così, inconfessabile intorno alla quale stiamo girando, che Beppe Grillo naturalmente non rivendica, ma il partito di Beppe Grillo è un partito personale, o per meglio dire bipersonale, nel senso che il Movimento 5 Stelle è stato il grillismo, naturalmente con l'integrazione di già Roberto Casaleggio. Oggi quel partito sta per diventare, anzi per molti versi già lo è, il partito di Conte, un altro partito personale. Dunque in qualche modo il Movimento 5 Stelle non si cristallizza, non assume la struttura, le organizzazioni tipiche di un partito, anche se staremo a vedere quale sarà l'esito della costituente rifondativa, come l'ha chiamata Conte, perché il ruolo della personalità dominante, il ruolo del capo politico, naturalmente in questo caso anche il lessico cambia e ci dice molto, è strettamente decisivo, anzi è fondamentale. Si tratta sempre di un partito personale, cambia la personalità, ma la formula continua a rimanere la stessa. Questo naturalmente è un problema, perché da molti punti di vista si tratta di un processo irreversibile. Beppe Grillo non può più avere indietro il suo giocattolo, perché nel frattempo attraverso le nuove personalità che sono state dominanti è cambiato. L'unica soluzione dal suo punto di vista può essere per l'appunto una scissione. Per farlo però ha bisogno di truppe, i suoi alleati all'interno del gruppo dirigente attuale, nell'articolo di Simone Canettieri, si mettevano in evidenza le lamentele, per l'appunto sono molto limitate, ci sono alcune figure storiche, ma naturalmente per accelerare, per ottenere che dalla sua parte si schierassero altri nomi che hanno fatto la storia del Movimento, servirebbe il superamento del divieto. E poi ci sarebbe da chiedere quale presa ha in questo momento Grillo rispetto a Giuseppe Conte. Vado da Giampiero Gramaglia, perché poi l'effetto collaterale di questa situazione che accade all'interno del Movimento 5 Stelle provoca, e lo scrive anche oggi Piero Ignazzi, sul domani, è un effetto collaterale su quella che è la costruzione del campo largo, visto che in qualche modo le grandi difficoltà che ci sono per una costruzione di alternativa a una maggioranza di centro-destra, questa potrebbe essere un ulteriore ostacolo. Sì, è vero, però mi sembra anche che tutta la polemica di cui stiamo parlando sia molto amplificata dalla situazione in cui si svolge, cioè intorno al 20-21 agosto. Non c'è molto altro di politica da parlare e il tema della politica in questo momento è questo. Però è anche vero che la lettera di Beppe Grillo è stata una lettera di Beppe Grillo che è arrivata inaspettata, con quei toni... Ma Beppe Grillo sa come fare notizia. Questo non glielo si può negare. Lui credo abbia anche scelto in fondo il momento sapendo che c'era meno competizione. in questa fase, a parte il meeting di Rimini, il tema è questo. Però mi sembra anche, quello che diceva il professor Panarari, con molto garbo, mi pare corretto, più che corretto, cioè il movimento non è più un movimento. Il movimento oggi è già tendenzialmente un partito, cioè non è più l'insieme di tanta gente che la pensa anche in modo diverso, come era il movimento che portò al governo Conte con la Lega e poi subito dopo al governo Conte con il PD, quello che appunto il professor Panarari ha definito la grande adattibilità di questo trasformismo camaleontico, di fare una cosa al contrario con le stesse... Cioè è già un partito formato intorno a Giuseppe Conte in questo senso. E anche abbastanza collocato in una posizione politica, non più che attraversa tutto lo spedimento. Cioè la scelta del centro-sinistra pare irreversibile. Chi vota, credo io almeno, chi vota 5 Stelle oggi, vota per una collocazione di centro-sinistra. Che voti per una coalizione di alleanza strutturale col PD o meno, questo può essere un altro discorso, ma si colloca nel centro-sinistra. Però questo magari è proprio il punto di grande frizione perché Grillo, uso le sue parole, dell'elevato, ha sempre visto, diciamo, da un punto di vista privilegiato destra e sinistra, superando, diciamo, quelli che sono i confini e quindi vorrebbe un movimento un po' più, tra virgolette, fluido forse. Eh, ma forse non c'è più. Quelli che sono rimasti stanno da una parte. Molti che, secondo me, hanno votato in quella fase fluida 5 Stelle ma che si riconoscevano più in una protesta di destra, nel frattempo sono emigrati a votare magari Fratelli d'Italia. Normale dialettica o il vaffa di Grillo è un vaffa di quelli importanti, insomma? No, io credo che sia un vaffa di quelli importanti anche perché noi l'abbiamo un po' dimenticata perché è avvenuta in una stagione un po' confusa, ma una micro-scissione, quella che poi si è dimostrata una micro-scissione nel movimento, c'è già stata con l'addio di Di Maio che... Micro-micro. Micro-micro, che però forse ci racconta dei rischi di una potenziale scissione e soprattutto del fatto che e Grillo l'ha sottolineato in maniera molto specifica, il nome è quello che rappresenta il movimento ed è quello che rappresenta il movimento per gli elettori. Una scissione con un partito conte che quindi dovrà avere un nuovo nome, dovrà avere una struttura partito e ricordo i partiti hanno una caratteristica, i partiti sono scalabili. Ecco, qui si parla di una convention costituente ma non mi sembra che la leadership sia messa in discussione. Ecco, cominciare una costituente senza mettere in discussione la leadership è già di per sé un qualche cosa che sembra più belligerante nei confronti di Grillo che una vera ricostituente di quello che vorrebbe assumere le forme di immagino un partito. Ecco, il fatto che Grillo rivendichi il simbolo e rivendichi il nome mi sembra un segnale molto chiaro di potenziale sfratto. Cioè, caro Conte, se decidi di fare una cosa diversa la crei da solo e quello che è il blocco originario del movimento rimane con me. Che cosa significhi questo con me? Lo vedremo se veramente si arriverà a queste estreme conseguenze. Certo è che... Però sul Paese non c'è il rischio che effettivamente citando quella micro scissione di Di Maio, Grillo poi si ritrovi praticamente poi un pugno di mosche nel senso che considerando per l'appunto che Conte ha una presa molto molto forte in questo momento in questa fase. È possibile è possibile anche che la cosa avvenga a parti invertite perché appunto leggendo in retroscena del tempo con l'ipotesi di un dibattista leader ecco c'è una parte di quelli che erano affezionati al movimento e che forse si sono disaffezionati proprio perché è un partito adesso lo chiamo partito che si è collocato in maniera netta nel centro-sinistra potrebbe magari riscoprendo i fasti delle origini riappassionarsi a un movimento che torna movimentista che torna al di là della destra e della sinistra e che mantiene il nome storico Conte se veramente la scissione sarà dovrà reinventare qualche cosa che necessariamente dovrà chiamare partito e dovrà chiamare in un modo diverso rispetto al movimento 5 stelle a chi giovi questa separazione è complicato dirsi non sono certa che giovi necessariamente a Conte comunque il rischio che si ritrovino Grillo Di Battista e Toninelli tre amici al bar forse ne arriva un quarto c'è certo assolutamente con quanto per che portata potrebbe avere potrebbe avere la stessa portata di Di Maio perché alla fine gli altri in qualche modo si sono affezionati a fare politica con le modalità del partito e adesso voltiamo pagina andiamo a Rimini perché appunto ieri c'è stata tutta una serie di dichiarazioni estremamente interessanti per quello che sarà l'autunno la ripresa poi a settembre della politica brevissimo blocco pubblicitario e torniamo veramente tra pochi minuti non c'è pace nel centrodestra sul tema della cittadinanza agli stranieri a Tajani che oggi dalle colonne di Repubblica insiste sulla necessità dello iuscole per i minori stranieri che completino un ciclo scolastico nel nostro paese ribatte l'altro vice premier Salvini che tiene il punto legge che funziona non si cambia la sintesi del leader leghista in mezzo dal palco riminese del tradizionale mitin Ciellino spiazza l'uscita del ministro Piantedosi se ne discuta senza condizionamenti ideologici bisogna porsi il problema di come rendere i migranti i nostri cittadini l'apertura del titolare dell'interno ma se sul tema dei diritti per ora sono solo parole il primo dossier concreto che i tre leader di maggioranza ritroveranno sul tavolo nel vertice del 30 agosto sarà quello della manovra il cantiere della legge settimane con l'entrata in vigore delle nuove regole del patto di stabilità si procede a tappe forzate venerdì 20 settembre data che al MEF hanno cerchiato il rosso sul calendario Roma dovrà presentare a Bruxelles il piano pluriennale di spesa per la correzione dei conti pubblici cornice entro la quale dovrà essere messa a punto la manovra una spada di Damocle per l'Italia che mai come quest'anno dovrà fare i conti con una coperta più corta del solito lo conferma la prudenza praticata e predicata in questi giorni alla banca d'Italia Panetta anche lui dal meeting di Rimini mette in guardia il governo sulla riduzione del debito pubblico e lancia l'allarme sulla futura tenuta del sistema pensionistico e sanitario causa crisi demografica anche misure che favoriscano un afflusso di lavoratori stranieri regolari costituiscono una risposta razionale sul piano economico indipendentemente da valutazioni di altra natura al numero uno di via nazionale replica la ministra del lavoro Calderone dobbiamo guardare alla tenuta dei conti frena l'esponente del governo sottolineando che in manovra si punta a mantenere la riduzione del cuneo contributivo e alla conferma degli interventi a favore della genitorialità per forza Italia tenere i conti in ordine è fondamentale le fa Eco Barelli e anche il leader della Lega Salvini promette la conferma delle misure in vigore a partire dal taglio del cuneo fiscale misura che da sola porterà via 10 dei 13 miliardi che il governo avrebbe già nel cassetto altri 7 miliardi serviranno per coprire il pacchetto occupazione e gli sgravi contributivi per le madri lavoratrici su un totale annunciato di 25 miliardi fuori resterà ben poco sullo sfondo la riforma delle pensioni con Salvini impressi in per quota 41 light ma l'accordo ancora non c'è e qui dietro e qui dietro il dorso il resto del carlino il quotidiano nazionale manovra Banca Italia avverte giù il debito allora Agnese Pini direttrice è più facile a settembre che si possono riformare le pensioni ridurre il debito o fare leggi sulla cittadinanza il rischio è che non si riesca a fare nessuna di queste di queste tre cose sicuramente diciamo delle tre c'è una legge quella sulla cittadinanza e le scuole che ha effetti avrebbe effetti e urgenze estremamente pratiche ed è molto interessante da questo punto di vista quello che proprio ieri ha detto al meeting appunto un po' sorpresa possiamo dire così di panetta sul sul flusso insomma di migranti regolari non ho capito scusami un po' sorpresa questo riferimento al flusso dei migranti regolari oppure diciamo da questo punto di vista un po' sorpresa perché in questo contesto di polemica appunto accesa soprattutto nella coalizione di centrodestra quindi di governo ma anche anche nel centrosinistra è chiaramente un segnale molto politico ieri panetta ha fatto un discorso in un certo senso inatteso perché è stato estremamente politico cioè partendo dalle condizioni oggettive del nostro paese è entrato nel merito di tematiche di questioni che affondano nei cortocircuiti talvolta ideologici dei partiti tanto di maggioranza quanto di opposizione perché dico anche di opposizione perché l'apertura molto decisa di Forza Italia l'italiano nella sua intervista repubblica è stato assolutamente netto per certi versi anche lui inaspettato rispetto alla rettezza che appunto non lascia presupporre che sia soltanto una butade quella dello Ius Scola per lui apre dei problemi prima di tutto della coalizione di maggioranza perché mette in crisi anzi crea un cortocircuito ideologico con i suoi principali alleati che infatti si sono subito trincerati dietro dei profondi no appunto di questa cosa non se ne discute perché va a toccare l'impianto ideologico di Lega di Fratelli d'Italia ma non è che è immune anche al centro-sinistra perché perché il Partito Democratico pensiamo a un esponente di lunghissimo corso come Del Rio è stato uno sponsor di Ius Scola per certi versi negli anni passati ma non è mai riuscito a portare a casa la riforma la verità è che il tema sollevato da Tajani appunto quello del come si rendono i cittadini stranieri affrontato nel nostro paese è sempre una chiave ideologica opportunistica tanto a destra quanto rispetto a sinistra ma il tagliere ci ricorda in questo senso può essere appunto un po' spiazzante ma assolutamente necessario che invece è un tema estremamente concreto per far girare il paese da qui non ai prossimi cento anni ma davvero un'aspettativa a breve a breve termine quindi è stato un richiamo estremamente politico e anche drammatico in questo senso ha spiazzato anche rispetto alla figura che riveste non siamo abituati ecco no tanto ha spiazzato insomma le parole di Panetta su questo argomento qua però chiedo a Giampiero Gramaglia se lui pensa che il tema delle scuole il tema della cittadinanza è effettivamente un tema diciamo a cuore all'interno di Forza Italia oppure per dirla a Matteo Renzi in realtà è una butade anche in questo caso una butade estiva perché Forza Italia in realtà mette sul tavolo questo argomento per ottenere magari poi altro questo può darsi perché nella coalizione di centrodestra ci sono priorità di ciascuna delle componenti e magari si mettono elementi negoziali per raggiungere poi effettivamente la priorità quindi questo è un elemento politicamente possibile però effettivamente delle novità che sono venute ieri dalle dichiarazioni che per il momento sono parole della politica e dell'economia mi sembra più nuovo il discorso più nuovo più sorprendente il discorso di Tajani che non i discorsi di Panetta che tutto sommato ha detto quello magari con coraggio magari con più chiarezza che in altri momenti che un governatore di Banca Italia è supposto dire e cioè che il debito è eccessivo e che va ridotto e che i contributi dei lavoratori migranti possono servire a tenere più in ordine i conti i conti nazionali e queste sono due considerazioni che appaiono banali anche se qualche volta la politica li contesta e anche sentire poi i discorsi sulla manovra su provvedimenti fatti in debito che vogliono essere confermati in ulteriore debito nel momento in cui il governatore ti dice non aumentare il debito fa la sensazione di una frizione che c'è purtroppo da sempre tra Banca Italia e la politica però il discorso di Forza Italia secondo me rispecchia anche una forte tendenza di italiani in quanto Presidente del Partito e Vice Premier a collocare e a collocarsi in una prospettiva più europea e e quindi a inserirsi in un discorso che il PPA il Partito Popolare Europeo condivide quello di costruire un sistema di integrazione dei dei migranti e non società parallele dentro i nostri i nostri paesi che poi possono portare anche a conseguenze negative e se vogliamo ma questo può sembrare una battuta c'è anche un effetto olimpiadi cioè alle olimpiadi gli italiani si sono resi conto che il nostro è un paese diverso e che la diversità porta se non altro medaglie tante quando ci sono eventi di questo genere abbiamo parlato anche altre volte una maggiore attenzione oggi Massimiliano Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia torna sull'argomento e dice no non serve lo Iuscole già garantiti i diritti ai minori considera la cittadinanza di certificazione un'avvenuta integrazione quindi anche per lui che potremmo definire la governista più moderata della Lega non è un argomento in discussione no non lo è come non lo è per tutta la Lega tant'è che immediatamente si è aperto uno scontro tra i due vice premier che su questo hanno posizioni opposte Forza Italia probabilmente sta seguendo quella che è stata un po' l'indicazione indiretta arrivata anche dalla famiglia Berlusconi che con l'intervista soprattutto di Marina Berlusconi ha dato un input al partito di Tajani nella direzione di premere soprattutto sulle questioni legate ai diritti ecco Tajani lo sta facendo e sta per certi versi diversificando Forza Italia molto più di come ha fatto negli ultimi due anni rispetto in particolare alla linea di Fratelli d'Italia noi che abbiamo scritto delle dinamiche di governo abbiamo sempre considerato Forza Italia un po' come dire il figlio diligente tra i due mentre la Lega era sempre stata un po' il pierino del governo ecco invece adesso Forza Italia sta prendendo posizioni appunto molto più in scia con il Partito Popolare europeo molto più in linea con la quota liberale del partito e questo necessariamente porta a differenziarsi da un lato rispetto alla Lega ma dall'altro anche rispetto a Giorgia Meloni che ha invece fino ad oggi governato con mi verrebbe da dire quasi il pugno di ferro con in mano il programma di governo e ciò che era scritto sarebbe stato fatto con priorità a quelle che erano state le scelte in particolare di Fratelli d'Italia che era il partito di maggioranza relativa ecco ora Forza Italia sta prendendo delle posizioni certamente diverse che aiutano a distinguersi che necessariamente si scontrano contro una visione di governo il vero interrogativo è Forza Italia sarà disposta a portare avanti per esempio in questo caso l'U.S.Cole anche diciamo con l'aiuto dell'opposizione in antagonismo rispetto alla maggioranza di cui fa parte perché poi alla fine noi appunto ne stiamo discutendo in agosto a camere chiuse senza un disegno di legge depositato la prova del 9 sarà quando effettivamente un testo ci sarà se ci sarà e a quel punto capiremo se paradossalmente ci sarà una convergenza verso le opposizioni e questo se sposterà gli equilibri di governo anche se poi disegni e legge su questo argomento ce ne sono effettivamente tanti depositati da vari partiti però diciamo che non c'è un testo diciamo che in qualche modo possa fare da collante con tutto il resto però professor Panarari quanto effettivamente questo tema è sentito nel paese o è solamente diciamo appunto in mancanza di argomenti o vuoi per le Olimpiadi come diceva Garmaia effettivamente è un tema che spot potremmo definirlo così è un tema spot è naturalmente collegato come diceva giustamente Giampiero Gramaglia anche alla contingenza delle Olimpiadi che hanno restituito l'idea molto europea per l'appunto di una delegazione nazionale che nelle competizioni internazionali in questo caso davvero globale porta mille colori mille competenze mille specialità e naturalmente restituisce alla popolazione l'idea che integrare significa anche potenziarsi da questo punto di vista che è la stessa idea su un altro settore su un altro versante quello economico che era contenuta all'interno delle parole del governatore della Banca d'Italia Panetta si tratta però di un tema di una issue che in qualche modo rimanda ad una serie di questioni più strutturali nel senso che tendenzialmente anzi possiamo dire proprio strutturalmente questo tema è collegato all'idea dei migranti all'idea delle migrazioni e quindi dal punto di vista delle destre soprattutto delle destre populiste al frame della paura quello che garantisce tanti consensi tanti voti rispetto ai quali Forza Italia sta cercando di costruire una narrazione che è parzialmente diversa naturalmente i temi importanti diciamo così questo è un tema importantissimo ben inteso ma i temi che attirano l'opinione pubblica sono temi rispetto ai quali diventa più difficile soprattutto in questo periodo che precede la riapertura aprire una discussione anche perché in prospettiva poi mancano le risorse il nodo fondamentale è naturalmente quello della politica economica sul quale qualche dibattito si sta prendo il tema del cuneo fiscale ma rispetto a cui in maniera molto evidente il tema del debito c'è il nodo della carenza di risorse quindi offrire all'opinione pubblica un altro tema discutere di altre cose naturalmente serve anche diciamo così a cambiare il piano delle narrazioni ad attirare l'attenzione e la discussione su altri livelli in qualche modo e in questo caso la sensazione è quella davvero per molti versi di un'arma di distrazione di massa e quanto esploso a proposito delle presunti indagini giudiziari nei confronti della sorella della Presidente del Consiglio che come la Procura di Roma ha evidenziato non esistono semplicemente non è aperto alcun fascicolo ma ne stiamo discutendo proprio perché in questo caso è necessario dal punto di vista politico tenere l'attenzione dell'opinione pubblica su temi differenti da quello che sarà invece un autunno caldo un autunno molto problematico per il governo non soltanto per le fibrillazioni interne ma più in generale per la possibilità di corrispondere di realizzare alcune delle tante promesse che erano state fatte che invece non sono realizzabili naturalmente proprio perché c'è il nodo delle risorse che rende tutto questo molto complicato un ultimo appunto rispetto a questo tema stanno aumentando le fibrillazioni del governo anche per la questione delle risorse ma più in generale per un tema di posizionamento il fatto che Forza Italia stia cercando di costruire una collocazione davvero a tutti gli effetti anticentrista sicuramente anche per le indicazioni della famiglia Berlusconi per Giorgia Meloni rappresenterà un problema questo è un nodo davvero molto stretto fino ad oggi non abbiamo vissuto un momento così complicato dal punto di vista della Premier e se ne vedranno le conseguenze un'ultima battuta chiedo ad Agnese Pini prima di lasciarla prima di salutarla non c'è il rischio l'ho accennato prima il professor Panarari al complotto Arianna Meloni insieme ne abbiamo parlato ne stiamo parlando in questi giorni che subentri poi all'interno dello stesso gruppo diciamo dirigente di Fratelli d'Italia una sorta anche di sindrome di complottismo perché non solamente relativo ad Arianna Meloni ma anche in altre circostanze abbiamo visto un chiudersi sempre di più quasi anche non fidarsi oggi i giornali parlano lo diceva anche il professor Panarari insomma di Tagliani al di là della normale dialettica politica dell'ipotesi magari di uno spostamento di far nascere un'altra cosa diciamo al centro e quindi la preoccupazione che un tema come questo possa distrarre da altri l'Europa come altri c'è il pericolo da parte di Meloni di chiudersi un po' troppo a Carazzo Chigi è un pericolo che è già subentrato non è la prima volta che Fratelli d'Italia reagisce così a aumenti di difficoltà al netto delle questioni giudiziarie legate ad Arianna Meloni che io non conosco cioè la domanda esiste non esiste un'inchiesta non lo so al momento sicuramente nessuno lo sa diciamo al momento lo sa solamente Alessandro Sallusti esatto ma al di là di questo al di là di questo il punto è che il messaggio politico poi la conseguenza politica del polverone che si è scatenato è un richiamo chiaro di Giorgio di Polverone anche sui alleati di governo cioè non siete con me o no mi sostenete o no e tra l'altro la domanda da farci è se questa inchiesta fosse vera Forza Italia come si comporterebbe? daremmo un sostegno davvero pienissimo? beh una domanda legittima perché è stato il paragone consiglio Berlusconi è stato agitato moltissimo da Sallusti dai sostenitori di Giorgio Meloni dai fratelli Italia stessi molto meno da Forza Italia ricordo un'intervista di Cicchito in cui su questo tema si prendevano delle distanze abbastanza importanti lo stesso Tajani nella famosa intervista che citavamo poco fa a Repubblica sul tema Meloni Ariane Meloni è molto prudente cioè dice sì sì il sostegno c'è ma non ci insiste più di tanto quindi la sensazione è che sia un modo di Meloni per ricompattare le fila chiudere a Guscio tanto nei confronti dell'esterno quanto soprattutto nei confronti dei suoi alleati e questo perché? perché lo ricordavi tu? L'autunno è faticosissimo non solo sul piano della finanziaria ricordavamo Panetta che cosa diceva poco fa nel merito ma se soprattutto un macro tema che è quello dell'oggettivo isolamento che Fratelli d'Italia si è creata in Europa e quindi di conseguenza l'Italia stessa il governo tutto essendo lei e Giorgia Meloni la principale rappresentante la guida questo è privo di conseguenze impossibile in un sistema così interconnesso e appunto i primi effetti di vedere un proprio rispetto alle mani del patto di stabilità la richiesta di rientrare da un debito mostruoso che Europa ci fa in maniera pressante e ormai priva di possibilità di sconti e vedremo anche come sarà formata la nuova commissione che ruolo avrà anche l'Italia che non mi sceglierà l'Italia visto che il nome di cittadino è più stabile ecco quindi agitare lo spettro del complotto serve a riallineare le file è servito molto in passato ecco mi pare questo è l'elemento di novità visto che appunto la sindrome di accerchiamento non è nuova c'è già stata l'elemento di novità è che però gli alleati hanno risposto in maniera meno salda meno forte meno convente rispetto ad altre volte se posso intanto ringrazio Agnese Pini per essere stata con noi questa mattina direttrice del quotidiano nazionale grazie volevo dire che la sindrome di Calimero che mi sembra che accompagni tendenzialmente la destra italiana in questa esperienza di governo funziona fin quando tu sei piccolo e nero cioè quando tutti ce l'hanno con te ogni riferimento cromatico è puramente casuale assolutamente solo alla pubblicità di un noto detersivo degli anni 50-60 quindi affondiamo nel tempo ma quando tu non sei più l'underdog termine che la Premier usa per se stessa funziona di meno perché lì sei tu che gestisci le cose quindi il complotto universale contro di te è tutt'altro ruolo allora una piccola parentesi la faccio con Gian Piero Gramagli e poi voglio anche l'opinione di Massimiliano Maranari non so se sono pronte le immagini possiamo farle vedere perché siamo alla terza giornata di convention del Partito Democratico negli Stati Uniti è stata la notte questa lo vediamo inquadrata di Bill Clinton insomma dell'ex Presidente degli Stati Uniti che proprio a Chicago accettò la nomination per la rielezione è stata anche la notte del vice Presidente designato per il Partito Democratico Tim Walz ma anche di personaggi del mondo della cultura dello spettacolo che ruota all'interno del Partito Democratico americano come Oprah Winfrey allora Gramaglia domani insomma il grande giorno di Kamala Harris già stasera ovviamente con il fuso orario stiamo vedendo anche qui Nancy Pelosi che è intervenuta stiamo assistendo diciamo a un ribaltamento il professor Pananari bravissimo in questo della narrazione cioè noi fino all'altro giorno davamo Donald Trump diciamo per strafavorito stravincitore il passo indietro di Joe Biden e la diciamo la candidatura di Kamala Harris ha rivitalizzato completamente questo sì non c'è dubbio che quella che poteva essere che rischiava di essere la convention della paura di perdere è diventata la convention della speranza di vincere questo non c'è dubbio però proprio i grandi vecchi del partito tutti hanno ammonito ma non abbiamo vinto cioè non dobbiamo illuderci che è già fatta come fece Hillary Clinton l'ha detta lei stessa io feci l'errore di credere che la cosa era fatta e poi perso e tra l'altro i sondaggi davano all'epoca le sondaggi erano come adesso perché i sondaggi nazionali questo era l'elemento preoccupante se i sondaggi nazionali danno i repubblicani in testa è un dramma per i democratici perché i democratici devono vincere le elezioni con un ampio margine Biden vinse con 7 milioni di voti di margine Hillary Clinton perse le elezioni con 3 milioni di voti in più quindi quel 3% o 1,5% o 2% che i sondaggi le davano in più a livello nazionale lei ce l'aveva davvero ma non servono ad andare alla Casa Bianca perché non si contano i voti si contano i grandi elettori quindi è una aritmetica diversa non bisogna mai guardare il sondaggio nazionale però questa convention dà un segnale di speranza e poi abbiamo visto Bill Clinton consente di mettere in difficoltà Trump Trump che era il giovane rispetto al vecchio che era quello che poteva giocare sulle debolezze dell'altro adesso si trova ad essere il vecchio a 78 anni che rimurgina discorsi sempre personali e non di politica e proprio Bill Clinton ha detto ha avuto una battuta secondo me felice ma lui è bravo in questo la prossima volta che sentite parlare Trump non contategli le bugie ma contategli quante volte dice io lui parla soltanto di se stesso in inglese the lies the eyes quindi è un gioco di parole per dire non badate neppure a quello che dice che è sbagliato ma guardate che lui parla soltanto di se stesso però è anche vero professor Panarari una battuta che questa è stata anche la grande forza di Donald Trump mettere lui al centro di tutto sparigliare completamente però dobbiamo cambiare la narrazione qui se no per dirla Obama yes she can sì qui è davvero un tema di ribaltamenti o cambiamenti di narrazioni nel senso che la narrazione dell'underdog non funziona più ovviamente per una persona che rivesti il ruolo di Presidente del Consiglio e la narrazione dell'outsider che entra all'interno della politica americana e porta alla ventata di novità rispetto alle dinastie o rispetto a partiti molto consolidati anche un po' in carta pecoriti non funziona per l'appunto e questo è l'elemento interessante naturalmente non sappiamo chi vincerà Gian Piero Gramaglia ci richiamava molto giustamente al fatto che è la distribuzione dei voti non la tendenza nazionale quella che decide le elezioni americane perché come sappiamo è una ingegneria elettorale estremamente complicata dove le leggi sono statali da questo punto di vista quelle elettorali e non nazionale però Trump è rimasto completamente spiazzato rispetto ad una narrazione che aveva strutturato e che sembrava molto efficace rispetto all'anziano Biden ora improvvisamente nel ruolo del passato si ritrova lui ha reagito con quello che è il suo riflesso pavloviano il suo riflesso automatico ovvero insultare aggredire fortemente la competitor ribadire una serie di diciamo concetti che sono quelli sostanzialmente del maga tutto questo non basta non è detto che è la ventata mediante guardiamo maga America Greta Kane che insomma è lo slogan che ha accompagnato la campagna di Donald Trump che è lo slogan del mettere l'America al centro rispetto alla quale in realtà è appunto come si diceva soprattutto lui al centro stanno però operando gli uomini dello staff trumpista per cercare di cambiare alcune cose e di reimpostare la narrazione e naturalmente la questione decisiva sarà di nuovo l'economia it's the economy stupid come si dice in America cioè è l'economia che discede molte cose da questo punto di vista nonostante i grandi risultati di Biden l'inflazione continua molto a mordere e seppur in maniera un po' folcloristica con quell'insieme di prodotti e di merci che ha messo su un tavolo Trump sta cercando di spostare l'attenzione su quello dicendo per l'appunto che i democratici non sono riusciti a bloccare l'inflazione i rincari sono molto pesanti e che l'economia giocherà a suo favore e lui magicamente di nuovo Maga la rilancerà grazie al professor Panarari io vedo già collegato Michele De Pascale sindaco di Ravenna partito democratico e candidato per il centro-sinistra alle prossime elezioni in Emilia Romagna con lui e con un altro ospite esponente della Lega che ci raggiungerà qui in studio torneremo insomma a parlare di politica italiana torneremo a parlare di legge di bilancio cittadinanza e di autonomia a rientro dalla pubblicità tra pochissimo troppo spesso la nostra discussione su questi temi si fonda su elementi e valori quasi esclusivamente economici cioè oggi il dibattito pubblico sul tema delle migrazioni anche la postura che il governo di turno può avere sul fatto di cercare di contenere i flussi irregolari o viceversa spesso si nutre o di contrapposizioni ideologiche molto radicali per motivi altri che non diciamo ne altro oppure anche su valutazione dice ne abbiamo bisogno la nostra economia ne ha bisogno che è verissima e quindi non vuole essere poi dopodiché secondo me noi ci dobbiamo porre il problema che la sostenibilità di processi migratori si nutre anche del fatto che si tratta di persone di cui dobbiamo non solo per previsione costituzionale immaginare la centralità nella nostra società si parte provengano e che per ragionamenti anche lì per citare anche cose nella scala dei valori che Maslow immaginò quindi non basta solo dare soddisfazioni a quelli che sono i cosiddetti bisogni primari nei quali includo anche quelli che in qualche modo hanno una suscettibilità di valutazione economica ma bisogna anche porsi il problema come questi li rendiamo nostri cittadini adesso non vorrei anticipare discussioni che in questi giorni sono un po' complicati cioè nel senso di dire dobbiamo dare soddisfazione a quella fisiologica tendenza di ogni individuo di ogni persona di trovare un ruolo nella società allora queste sono le parole del ministro dell'interno Matteo Piantedosi ieri dal meeting di Rimini intanto ci ha raggiunto qui in studio esponente della Lega Nicola Ottaviani buongiorno buona giornata a tutti voi do di nuovo il buongiorno che è in collegamento Michele De Pascale sindaco di Ravenna è candidato per la regione Emilia Romagna alle prossime elezioni di novembre parlo da parto da Giulia Merlo perché allora detto delle parole di Piantedosi che alcuni giornali hanno dato diciamo come apertura però poi alla fine Piantedosi ha chiarito il suo punto di vista dicendo la nostra legislazione chiarisce il titolare del Viminale qui sul Corriere della Sera è quella che consente il maggior numero di concessioni in tutta Europa l'Italia detiene il record nel 2015 2016 2017 2020 e 2022 quindi quello che si diceva una sorta di contrapposizione tra le parole di Piantedosi e quello che ha detto invece Salvini che ha chiuso completamente a questa ipotesi la diamo per fatta però il ragionamento che fa Piantedosi è un ragionamento altro abbiamo fatto sentire diciamo nella sua interezza del fatto stesso che al netto della parte economica e l'abbiamo detto prima con Panetta la centralità diciamo dell'uomo forse c'è l'idea in qualche modo che questo tema magari non adesso però in Parlamento possa sedimentare con il ragionamento che facevamo prima con un disegno di legge che poi nel corso del tempo vedremo come andrà la legislatura vedremo come andranno i rapporti all'interno del Parlamento possa in qualche modo germogliare ma allora sicuramente Piantedosi è un ministro che è certamente un ministro della Lega ma ha sempre goduto anche di una certa autonomia proprio perché diciamo è stato quasi più considerato un tecnico in alcune occasioni che un politico a me sembra che la sua sia stata una posizione che ha lavorato a stretto contatto con Matteo Salvini quando Matteo Salvini era l'oviminale e poi un uomo di fiducia e adesso lunga carriera prefettizia quindi viene come dire da una formazione che non è quella prettamente politica a me sembra che la chiusura di Salvini sia stata una chiusura prettamente politica che Piantedosi abbia più ragionato sul tema e come dire aperto a un discorso di ragionevolezza che forse va nella direzione di quello che anche Tajani in qualche modo anticipato certamente con più forza ripeto io credo che poi il punto vero sarà capire se Forza Italia si farà veramente carico di portare avanti questo tipo di stanza in Parlamento e quindi o recuperando un testo già depositato oppure con un nuovo testo sia in grado di proporre all'agenda di governo questo argomento mi sembra onestamente di no nella misura in cui quasi tutti i forzisti nel sostenere la tesi di Tajani hanno anche aggiunto non essendo nel programma di governo non sarà certamente una priorità dei prossimi mesi quindi ecco in questo senso mi viene da dire il tema è sul tavolo probabilmente non verrà raccolto molto presto Ottaviani la preoccupa di più una riforma della cittadinanza o quella delle pensioni in una battuta ma in realtà oltre a quello che ieri ha commentato il ministro Piantedosi che è un tecnico ma dice io sono in pianta stabile all'interno del centro-destra quindi non provengo dalla luna o non provengo da Marte quindi faccio delle mie valutazioni ossia questo è un tema rimetto alla politica la possibilità di approfondirlo meno quindi rimetto sostanzialmente a quella che è la maggioranza che governa il paese in questo momento probabilmente per i pari fiani che dovrà fare poi le scelte questo non è molto lontano e distante da quello che un altro tecnico ieri a Rimini ha portato avanti e ha rappresentato e ci riferiamo al governatore di Banca Italia perché anche in quel caso sembrava che quelle dichiarazioni estrapolate da un determinato contesto esattamente andassero nella direzione di dire no apriamo a tutti i migranti ha detto una cosa molto chiara Panetta che non è lontana poi da quello che sta dicendo non solo Piantedosi ma tutto il centro-destra portiamo avanti tutto quello che riguarda la legalità cioè stiamo parlando di immigrazione regolare così Panetta ha detto l'immigrazione regolare aiuta l'economia sostiene l'economia è inevitabile sotto il punto di vista del mantenimento dei saldi positivi nei conti pubblici sia in termini di pensioni che in termini di sanità non mi sembra che il centro-destra stia dicendo qualche cosa di diverso un conto è dire portiamo avanti quelli che sono dei meccanismi legali regolari di ingresso di flussi aumentando anche il contingente dei flussi purché naturalmente quei flussi possano essere integrati come dice Piantedosi perché poi a queste persone bisogna dare non soltanto quella che è una casa un reddito ma un'assistenza sanitaria ma bisogna dare un bisogno esattamente quindi la persona come insieme come coacervo di bisogni differenziati che devono essere tutelati da un paese civile tra l'altro uno dei paesi più importanti all'interno del G7 Da Rimini a Ravena non c'è molta distanza anche a De Pascale sono arrivate così le parole di Panetta e di Piantedosi Sì innanzitutto si riscontra anche nelle parole di Ottaviani che è un ex collega sindaco quindi magari ha vissuto molte esperienze simili a quelle che ho vissuto anche io in questi anni un tono e dei contenuti diversissimi da quelli che abbiamo visto nelle campagne elettorali cioè diciamocelo la narrazione che Piantedosi porta avanti le parole di oggi non c'entrano nulla con le promesse che il centrodestra e con le cose che il centrodestra ha portato avanti in campagna elettorale con la retorica del non c'è più posto in Italia con basta immigrazione senza alcuna differenziazione fra quella regolare o con quella irregolare era un tema diciamo venduto come blocco a qualsiasi forma di ingresso nel paese oggi ci si accorge invece che il fenomeno va gestito le parole di Piantedosi non sono molto coerenti con quello che il governo ha fatto finora i decreti flussi sono assolutamente insufficienti la bossi fini non funziona abbiamo un tema di retorica degli sbarchi la mia città è stata interessata per la prima volta dal dicembre di due anni fa da sbarchi di navi che arrivano nel centro nord queste persone arrivano finiscono in un limbo non c'è alcuna connessione con la formazione professionale con il lavoro e quindi diciamo la gestione dei flussi migratori per quanto le parole di Piantedosi da parte mia siano più apprezzabili di quelle di Salvini però i fatti sono fatti e c'è poco da dire l'altra cosa però è quella dello Iuscole lo Iuscole in molti casi con l'immigrazione non c'entra nulla come possiamo definire un immigrato un bambino che è nato qui ma da dove è migrato è proprio sbagliata diciamo il lessico che mettiamo avanti io in questi anni ho incontrato uno per uno tutti i diciottenni che ottenevano la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età perché oggi funziona così in Italia ma venissero ad ascoltarle le storie di questi ragazzi le frustrazioni i problemi che hanno incontrato sono i compagni di classe dei nostri figli cioè io dico ma mettiamoci un po' di concretezza un po' di umanità sono persone sono casi concreti diciamoli riguardandoli negli occhi queste cose che non sono italiani un ragazzo di 14 anni che è nato in Italia ed è sempre vissuto in Italia io non ci vado a dirvi che non è italiano non so se qualcun altro ha il coraggio di andare a dirvelo è un ragazzo di 14 anni che studia nelle nostre scuole e che non ha la cittadinanza italiana pur essendo sempre vissuto qui quindi che c'è un'istigazione alla illegalità no di questo dobbiamo essere chiari cioè se si dice ma a prescindere da quello che è il percorso della legalità a prescindere da quello che prevede il diritto positivo degli urecondido non degli urecondendo quello che un giorno sarà noi comunque sia facciamo prevalere quello che è un profilo di natura strettamente diciamo così ideologico rispetto alla norma si continua a dire da parte nostra come centrodestra tutti coloro che rispettano la legge che rispettano i flussi di ingresso che entrano in Italia con un percorso regolare è giusto che siano da noi che lavorino che contribuiscano al reddito personale e al reddito complessivo del paese conseguendo con gli strumenti che ci sono anche la cittadinanza altra cosa altroggenamente è quello sui quelli che sono nati però nel nostro paese ma anche quello è un percorso che deve essere eseguito Piantedosi ha indicato come nel corso degli ultimi anni la percentuale in Italia cosa che è stata ribadita anche da Matteo Salvini però se la dice Matteo Salvini diventa il mostro di turno la percentuale di coloro che hanno avuto la cittadinanza in Italia è più alta in assoluto degli altri nostri fratelli o delle nostre consorelle in Europa quindi c'è qualche cosa che non va cioè la ideologizzazione Tucur a prescindere di quello che è il profilo della legalità dell'immigrazione credo che non faccia gioco neppure alla sinistra De Pascale vorrei far intervenire Gramaglia su questo poi vengo da lei solo per suggerire che su quell'affermazione del ministro dell'interno si faccia un minimo di fact checking perché tradizionalmente Germania Francia e persino Svezia assegnano più nazionalità che l'Italia poi può essere successo in qualche anno che questo è un dato diverso però il numero merita un po' di fact checking così rapidissimo e indolore Prego De Pascale Nessuno teorizza che le leggi non vadano rispettate ma se le leggi sono sbagliate vanno cambiate la bossi fini non funziona nonostante abbia come primo nome il fondatore della Lega se è una legge sbagliata va cambiata lo stesso i decreti flussi non funzionano le persone arrivano in maniera irregolare ricevono permessi di soggiorno diciamo di ragione umanitaria ricevono il diniego e rimangono qui come clandestini la legge bossi fini non dà soluzioni per il lavoro e crea clandestinità ma correggetela cambiatela cioè qual è il nodo se una legge è sbagliata si cambia idem la legge sulla cittadinanza anche questo non era scusate Pasquale perché anche questo non era il programma un tagliandola bossi fini allora il tagliandola bossi fini in realtà ha riguardato esclusivamente quello che è il profilo della verifica dei flussi e mi sembra che i flussi nel corso degli ultimi tre anni siano aumentati al che ne dica con tutto il rispetto l'ex collega il candidato nella regione Emilia Romagna qui dobbiamo intenderci sempre su quello che è il concetto del percorso trasparente del percorso coniugabile ma si può continuare a dire la legge è sbagliata per cui non l'applichiamo la legge eventualmente a chi non piace se hai la forza e i numeri per cambiarla la può cambiare ma questo fa parte del processo democratico se c'è una maggioranza che fino a prova contraria è unita è coesa perché non ci sono allo stato attuale disegni di legge proposte di legge diversi rispetto a quello che invece è stato il profilo dell'unità del programma se c'è una maggioranza oggi che porta avanti un programma legittimamente votato da milioni e milioni di persone nell'ottobre del 2022 perché si dovrebbe cambiare quel programma quando c'è stata un'asseverazione che è passata per il corpo elettorale allora e voglio concludere e voglio concludere nello stesso momento in cui il ministro degli interni che è inserito come tecnico all'interno di una maggioranza che lui riconosce come maggioranza politica dato che i flussi migratori regolari nel corso degli ultimi anni sono aumentati significa che c'è una politica di inclusione ma è un'inclusione veritiera non farisaica come la sinistra ha cercato di portare avanti nel corso degli ultimi anni anche grazie ad un meccanismo di ONG spesso targato in un determinato modo con la creazione di interessi sui quali anche le procure in giro per l'Italia domanda e rapida risposta perché poi deve andare in pubblicità i flussi saranno aumentati ma i flussi sono inadeguati ci dice anche il governatore di Banca Italia quindi andrà cambiato il provvedimento ha cambiato la legge per consentire che i flussi siano adeguati cambiare i flussi è un atto che riguarda il ministro degli interni quindi sono disposizioni regolamentarie sono norme come lei saprà sicuramente sono fonti subordinate di secondo grado non sono fonti primarie la fonte primaria è la legge la legge c'è e funziona non fa parte dell'agenda di governo riformarla se ci dovessero essere delle necessità sotto il punto di vista economico finanziario diverso è chiaro che la stessa maggioranza se mi farà caso allora io andrei un attimo all'assegnazione 4 perché è arrivata adesso l'agenzia del naufragio del balesian del veliero a Palermo è stato recuperato il quinto corpo i sommozzatori dei vigili del fuoco e stiamo vedendo proprio adesso in questo momento le immagini hanno appena recuperato il quinto corpo dei dispersi già che era stato individuato ieri sera nello scalo dei velieri fondato a Porticello si dovrebbe trattare del corpo di Mike Lynch il corpo del magnate britannico che è stato portato come state vedendo proprio in queste immagini pochi istanti fa avvolto in un telo di plastica sul molo a questo punto manca solo esclusivamente il corpo della ragazza la figlia di Mike Lynch Anna vedremo se anche stamattina avremo delle altre notizie adesso pubblicità poi cambiamo argomento e andiamo su un tema molto caro alla Lega ma non solo ovvero l'autonomia la votazione è chiusa Presidente guarda là e questo era il giorno dell'approvazione alla Camera definitiva della riforma dell'autonomia differenziata un giorno che ricorrerà benissimo Ottaviano perché per la Lega è stata una giornata estremamente storica e importante vado da Giulia Merlo perché ieri notizia che sia Sardegna che per quanto riguarda anche la Toscana si è fatta ricorso, si è impugnata la legge nel frattempo cammina il percorso per quanto riguarda la raccolta delle firme sulla autonomia a che punto siamo? Siamo a un punto in cui mi sembra che le opposizioni abbiano un po' intrapreso una sorta di manovra a tenaglia per cercare di fermare questa autonomia differenziata che comunque va ricordato, non è ancora, è formalmente in vigore la legge l'applicazione si avrà quando verranno definitivamente determinati i LEP ci sono 24 mesi di tempo, ad oggi non abbiamo notizia che queste cifre ci siano quindi per ora è una legge che rimane un po' lì nel congelatore in attesa di questi numeri Arrivano prima i referendum? Questa potrebbe essere un'ipotesi anche perché appunto in realtà i numeri spettano al Ministero dell'Economia quindi quantificare quali sono questi livelli essenziali delle prestazioni è un calcolo per il costo standard che viene richiesto al Ministero dell'Economia che ad oggi non ci ha dato informazioni sulla rapidità di questo processo è già stato detto a Zaia che aveva chiesto le materie non LEP quindi quelle in cui questi numeri non servivano di aspettare perché l'autonomia andrà chiesta a pacchetto cioè tutte insieme le materie sia quelle che riguardano i LEP che quelle che non li riguardano per quanto riguarda invece le opposizioni appunto la manovra mi sembra duplice da un lato c'è la proposta referendaria che ha raccolto più di 500.000 firme probabilmente si sfonderà questo numero quindi una cifra ampiamente sufficiente a proporre il referendum abrogativo con due però problemi, uno di natura tecnica che è il fatto che il quesito riguarda l'abrogazione dell'intera legge essendo questa legge un collegato alla manovra di bilancio potrebbe essere inammissibile questo tipo di quesito quindi probabilmente si dovrà lavorare a un altro quesito ancora parzialmente abrogativo l'altro grande tema è invece più politico e cioè il referendum abrogativo necessita di quorum raggiungere il quorum è estremamente complicato l'ultima volta in Italia è successo quasi 14 anni fa quindi ci sarà un grande tema di raggiungimento del quorum tra l'altro 5 regioni si poteva anche evitare la raccolta firme che però è un grande movimento popolare che aiuta a sostanziare poi quella che sarà la campagna referendaria quindi la scelta è una scelta intelligente per cercare di costruire una base su cui trovare consenso contro l'autonomia la strada invece è scelta dalle 3 regioni che sono la Puglia, la Toscana e la Sardegna quindi 3 regioni a guida centro-sinistra intesa come campo largo visto che la Sardegna è guidata dai 5 stelle è una scelta un po' più tecnica e cioè si procede con un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte delle regioni che è un ricorso possibile nel caso in cui la regione ritenga che lo Stato abbia in qualche modo travalicato le sue competenze andando a invadere quelle regionali quindi si tratta di un ricorso estremamente tecnico che si fonda sulla violazione di un elemento costituzionale i ricorsi tra l'altro sono tutti diversi quindi saranno anche difficilmente richiudibili in un'unica vicenda davanti alla Corte Costituzionale e quindi ci sarà una valutazione in questo caso che non riguarderà la politica il referendum sarà una questione estremamente politica i ricorsi delle regioni che a mio avviso sono quelli che più potenzialmente saranno in grado di mettere in difficoltà la legge hanno invece un percorso puramente tecnico e puramente giuridico Nella costruzione della puntata di oggi è stata veramente una cosa puramente casuale abbiamo in studio un ex sindaco per dieci anni a Frosinone, vero? Esattamente sì Diciamo che è favorevole a questa legge e un sindaco di centro-nord diciamo che è contrario a questa legge questo è anche per far capire che dovremmo anche uscire fuori dal meccanismo nord-sud in questa partita che però oltre alle regioni ha un impatto collaterale anche per quanto riguarda i comuni vero De Pascale? Sì assolutamente io penso che si debbano dire parole di verità non ha senso la strumentalizzazione io in questi anni sono stato in conferenza unificata che è la sede in cui i comuni e le province dialogano con il governo e ho discusso di autonomia differenziata col governo Gentilone col Conte 1 col Conte 2 col Draghi e col Meloni quindi tutti hanno parlato di autonomia differenziata ci sono delle differenze oggettive sostanziali molto tecniche devo dire se dovessimo spiegarle a un cittadino che non si intende di pubblica amministrazione non sarebbe così semplice spiegarle c'è stata in mezzo una pandemia dove la differenziazione fra regioni non ha dato un bello spettacolo non so se ricordate quando durante la pandemia nella regione A non si poteva fare una determinata attività nella regione B si poteva fare le guerre fra i governatori per combattersi i ventilatori non è quell'elemento è un elemento che deve aprire una riflessione e quindi io faccio un indice però De Pascale l'attuale presidente della regione Emilia Romagna era favorevole a una differenziazione era favorevole diciamo a una maggiore autonomia per le regioni ma infatti io dico il centro-sinistra se vuole essere credibile e lo dico anche a titolo personale in questa battaglia referendaria che va condotta secondo me deve anche fare un pezzo di autocritica perché la pandemia ha mostrato nettamente e l'iniziativa delle Emilia Romagna è precedente alla pandemia la pandemia ha mostrato nettamente che noi non abbiamo bisogno di maggiore arlecchinata perché nel momento in cui dobbiamo semplificare le norme semplificare le leggi dobbiamo avere maggiore omogenità o omogenità delle norme nelle regioni non maggiori differenze e poi c'è un altro dato guardate al sud a differenza che al nord questo provvedimento viene letto trasversalmente come una secessione ma questo non è un problema anche per la classe dirigente del centro-destra del sud discutiamo il merito ma che in questo momento una larghissima parte trasversale dell'opinione pubblica dei cittadini del sud vedano questo provvedimento come un abbandono ma non è un problema che sentite anche voi fermiamoci un secondo il ricordo alla Corte Costituzionale il referendum tanto questa norma non la manderanno mai avanti perché nella cultura di Fratelli d'Italia c'è il centralismo a noi per gestire l'alluvione ci hanno mandato un generale non l'hanno data alla regione o ai sindici la gestione della ricostruzione la destra in questo paese è centralista questo provvedimento rischia di portare confusione rischia di creare un grande una grande tensione fra nord e sud fermiamoci e facciamo una riforma condivisa migliore che dia autonomia amministrativa ai comuni che non crei delle super regioni non ci servono a niente delle super regioni lo dice chi si candida a guidarne una non ci servono delle regioni totipotenti né nei confronti dello Stato né nei confronti dei comuni allora il riferimento che faceva De Pascale è al presidente della regione Calabria Occhiuto che ha più di un dubbio in merito a questa riforma e lo stesso Tagliani ha detto che sarà estremamente attento a quelle che saranno i prossimi passi abbiamo ascoltato le ragioni del no quelle che invece del sì che va fatta questa riforma e che questa riforma è importante per il paese ma sono d'accordo assolutamente con quelle che sono le premesse del ragionamento di De Pascale per quanto riguarda il fatto che la sinistra e soprattutto il PD debba fare una seria autocritica non sono d'accordo però sulle conclusioni perché non ho capito poi questa autocritica a che cosa dovrebbe andare a dare la stura cioè in altri termini noi partiamo da qualche cosa che la sinistra ha voluto che ha voluto il PD io voglio ricordare che è il presidente la bicamerale che portò a termine quello che è stato il percorso di inserimento costituzionale per cui l'autonomia differenziata è legge costituzionale del nostro Stato del nostro Paese da circa dieci anni si chiamava D'Alema non è che si chiamava in altro modo e sicuramente non si chiamava Salvini si sta dando attuazione a quello che è un dettato costituzionale quindi si sta dando esecuzione adesso si può discutere su quello che è il profilo delle esecuzioni ma dire che l'autonomia differenziata comporti di per sé una spereguazione tra sud e nord è una menzogna non solo ma vorrei ricordare a me stesso soprattutto perché adesso stiamo parlando ad esempio di una regione importante come l'Emilia Romagna che se non ricordo male proprio con riferimento a Stefano Bonaccini nel 2017 se non erro con una delibera di giunta regionale la ricordiamo tutti perché fece scalpore del 28 di agosto quindi diciamo che da qui a breve festeggeremo la ricorrenza fu proprio Bonaccini a chiedere e a determinarsi nel senso di favorire l'autonomia su materie che se non ricordo sempre male dovevano essere relative a scuola protezione civile e quant'altro è quello che sta avvenendo in questo momento voglio voglio terminare voglio terminare il ragionamento autonomia differenziata ecco quello che diceva la dottoressa Merlo prima è ineccepibile in termini di ricostruzione aggiungerei soltanto un elemento in più non si sta dando attuazione in questo momento perché c'è una cadenza una cadenza sotto il punto di vista dell'agenda da portare avanti a quello che è il profilo dell'autonomia differenziata non tanto o non semplicemente perché ancora devono essere fissati le app ma perché e questo è l'altro argomento che mi sembra sia la rabba fenice di tutto questo contesto perché l'autonomia differenziata si porta avanti dalle singole regioni che lo richiedono cioè non è un'imposizione non è un precetto da parte del prefetto che dice allora in questa regione la facciamo e in quell'altra non la facciamo è una facoltà delle singole regioni che dovranno stringere se lo vorranno degli accordi con la presidenza del consiglio quindi con il governo e dare attuazione a quei famosi lepp che significa livelli minimi di assistenza questo significa che se ci sono delle regioni che sono in grado di spendere meglio quelle che sono le risorse pubbliche dobbiamo dire no a queste risorse mi perdoni quello che io non riesco a comprendere sul dibattito relativo all'autonomia è che il concetto è quello dell'utilizzo sano delle risorse altrimenti quelle risorse non le meriti ma è quello che sta succedendo sui 194 miliardi del Next Generation EU l'Europa ci dice io i soldi te li metto a disposizione ma me li riprendo se tu non li spendi centrando alcuni obiettivi che sono qualitativi e quantitativi perché quello stesso strumento non dovrebbe valere anche per la mia differenziata è vero questo ragionamento e vado a una breve replica di De Pascale visto che ha tirato fuori la deribia e capire anche da dove si parte le varie regioni e dai dibiti che poi hanno le varie regioni in giro per l'Italia prego De Pascale rapidissimo Taviani parla di un'altra autonomia che è quella amministrativa che abbiamo vissuto noi e che viviamo come comuni qui si chiede che ogni regione legiferi diversamente perché Confindustria è contraria a questo provvedimento non si può programmare un paese una politica energetica una politica diciamo di formazione professionale se ogni regione ha norme e regole diverse noi siamo favorevoli alla gestione sul territorio con solidarietà verso le zone più deboli del paese qui si va verso un provvedimento che peggiora il titolo quinto che già ha mostrato dei limiti perché il titolo quinto ha già mostrato dei limiti nell'eccessiva differenziazione delle norme fra le diverse regioni l'Emilia Romagna non ha mai pensato di fare l'autonomia differenziata sulla scuola questa è una falsità ed è bene non dirne e noi pensiamo invece che si debba lavorare sul ruolo dei comuni delle province degli enti locali non che si debbano avere 20 staterelli con regole tutte diverse e con un grande egoismo delle regioni governate dalla Lega del Nord perché questa autonomia egoista non aiuta il paese è stato religioso silenzio Giampiero Gramaglia perché noi abbiamo sempre la contrapposizione tra quando parliamo di autonomia tra Stato federale e lo sfascia Italia e si fa fatica a fare un ragionamento nel merito devo dire una cosa con riferimento allo Stato federale per eccellenza per eccellenza almeno per antonomasia nella nostra mentalità che sono gli Stati Uniti una scena come quella che abbiamo visto del Parlamento italiano nel Parlamento degli Stati Uniti non la vedremo di sicuro pur essendo molto forte il potere degli Stati tant'è vero che i piccoli Stati hanno un overpotere rispetto ai grandi Stati perché leggono due senatori dal Rhode Island come due senatori stiamo parlando di uno Stato immenso come gli Stati Uniti stiamo parlando di uno Stato immenso quindi non vedremo mai sventolare tutte le bandiere degli Stati e non la bandiera degli Stati Uniti nel Parlamento si sventolerebbe la bandiera degli Stati Uniti però volevo dire tre cose molto rapide una sulla debolezza del referendum come strumento perché è vero il referendum per abrogare non sempre hanno avuto successo questo però è un tema che mi sembra mobiliti molto l'opinione pubblica tendenzialmente l'opinione pubblica del Sud con eccezioni però tendenzialmente l'opinione pubblica del Sud e anche larghe fette di opinione pubblica del Nord quindi il raggiungimento del 50% non mi sembra un obiettivo impossibile per un referendum di questo tipo soprattutto se poi accompagnato e preparato da tutta una serie di propaganda politica di segno opposto la seconda cosa è che uno strumento un obiettivo che forse è della riforma ma che va senz'altro raggiunto e che potrebbe essere raggiunto anche senza la riforma è quella di una maggiore efficienza ed omogeneità della spesa o omogeneità dell'efficienza della della spesa questo è un obiettivo giusto da perseguire non è necessaria la non è necessaria questa riforma per farlo la terza cosa è magari un po' più come dire di carattere ideale ma oggettivamente mi sembra un indebolimento del sentimento di unità nazionale e che questo indebolimento del sentimento dell'unità nazionale avvenga nel momento in cui c'è al governo come forza di maggioranza del governo una forza che ha sempre fatto dell'unità nazionale una come dire una bandiera politica mi sembra un po' strano potrebbe essere un problema per Giorgia Melone secondo me mi appare contro la natura del suo movimento politico come sei i rapporti con Fratelli d'Italia Toioni? ma io credo che ancora una volta credo che ancora una volta ci debba essere la notizia tirata fuori su Lulla mi sembra che anche nel vertice occasionale che c'è stato in Puglia nel corso delle ultime ore tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni con la telefonata in diretta con Antonio Tajani si sia rinnovato non quello che è un patto di fedeltà ma quella che è la ratifica di quello che in realtà gli elettori sempre nel famoso ottobre del 2022 hanno decretato quindi i rapporti sono ottimi come è ottima la salute di cui gode questo governo al di là di quelli che possono essere gli avvoltoi che fanno il loro gioco ci mancherebbe altro ma lo fanno da molto lontano e quindi non riescono ad arrivare all'obiettivo De Pascale in una battuta oggi sul resto del Carlino c'è il primo sondaggio che riguarda l'Emilia Romagna ricordiamo che la candidata per il centro-destra è Elena Ogolini che è una diciamo candidata che viene dalla società civile è stata sottosegretaria con il governo Monti la danno in vantaggio di otto punti ora qualsiasi gesto potropaico di mattina e anche inquadrata a mezzo busto può tranquillamente farlo che campagna sarà? una campagna di merito sull'Emilia Romagna noi abbiamo una coalizione molto larga tutto il centro-sinistra più oltre 60 liste civiche io vengo da mille persone in quattro assemblee a parlare di sanità quindi temi molto concreti vicinanza alle persone e poi i sondaggi quando ti danno in vantaggio fanno piacere però non devono fare abbassare la guardia dobbiamo lavorare con forza e con energia ogni giorno e meritarci la fiducia dell'Emiliano Romagna vedremo vedremo grazie Eugolini grazie Ottaviani ringrazio Giulia Merlo e Gian Piero Gramaglia che sono stati con me dalle otto di questa mattina adesso la linea in leggero ritardo la diamo a Marco Piccaluga e a Coffee Break noi ci rivediamo sempre domani a partire dalle otto grazie e buona giornata a tutti